Salve a tutti, benvenuti in questa puntata, credo sia la 36, non ne sono sicuro, comunque vedrò meglio in passi montaggio Viva la FIFA, FUT e l'isperazione, ora andiamo a noi, abbiamo delle buste da sbustare Le buste sono le seguenti, con le sfide creazione rosa, ho reperito queste due buste, pacchetto oro premium calcio ace Sono pacchetti oro premium destinati alla serie A Ano tre giocatori ci saranno, così hanno che abbiamo anche qualche buco d'organico, diciamo, terzini destri non ne abbiamo per esempio E non mi servirebbe anche il portiere di riserva perché Vagna, Milingomi, Sanic, Savic, insomma, vabbè Comunque, visto questo, io proverei a vedere cosa viene fuori E poi aprirò, so, un pacchetto premium oro maxi, credo si ne aprirò uno o due, vediamo Comunque, iniziamo con i pacchetti premium serie A Vediamo cosa viene fuori, speranza che possa essere buono, non è neanche raro Skorupski! Skorupski! E Zucanovic in difesa, attaccante Petagna, mi dispiace Simone Inzaghi come allenatore, ottimo Abbiamo il portiere di riserva, abbiamo un altro portiere, e questo già è un'ottima cosa Mio Skorupski, si invia la rosa attiva subito al posto, eccolo fatto, di Milinkovic-Savic E Milinkovic va al club, poi abbiamo Zucanovic, no? E Petagna neanche, insomma, nulla di che, io direi che tutti questi possiamo mandarli, inviarli al club, va bene così Poi, vediamo l'altro, magari un terzino destro, ce l'ho dato, un terzino destro, che favore, un terzino destro, è neanche raro questo Cicci Gagliardini, attenzione, attenzione, allora, abbiamo Gagliardini e poi difensore del Benevento Costa, va vabbè Ma non erano tre... no, abbiamo... ah, eccolo, e allora... non posso scattare... vabbè, facciamo una cosa Allora, e... mio oggetto attuale... Aspetta, allora, a rosa attiva ci invio questo, e questo va a lista trasferimenti Olè! Risolto E... questo va qui Olè! Per fortuna, l'altro era... si poteva fare Allora, intanto io... scusa, non doveva essere Serie A? E che ci fa lo stemma dell'Hamburgo? E' quello del Birmingham? E' il Kierkles Stadion? Non doveva essere Serie A? Vabbè, comunque Gagliardini, Gagliardini è ottimo, è ottimo Invia la rosa attiva Gagliardini, c'è, ottimo Per me, ottimo Possiamo, e qua, a posto di Don Sa O Sa o Don Sa? O Sa, O Sa To A posto di Don Sa Intanto Don Sa va al club E poi... boh, poi vedremo Costa, difensore Direi anche no Comunque, poi Io intanto farei Questo Premi numero Maxi Vediamo cosa viene fuori E' almeno è raro Norvegese Portiere Del Lerta Berlino Jarnstein 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 Frain Bain Rhein Boh, comunque Abbiamo Bufal Ehm Non ci è andata granché bene, eh Dobbiamo dirla tutta Non ci è andata Poi Benavente Chi è? Ah, la prolie Charleroi Peruviano Che gioca in Belgio Vabbè Comunque, poi No, qua va Ecuador Stemma L'Equador Bayer Bayer direi Lo mettiamo In listra Trasferimenti Bayer Allora, io direi Quindi questi Vanno là Però dai Facciamo una cosa Non possiamo fare quella cosa Bene Quindi Non possiamo fare più quella cosa Ehm Quindi Alla sto punto Proviamo a giocarcela E Amen Ok Allora Andiamo a una partita online Dove la situazione È comunque critica Nonostante la vittoria Scorsa volta Dobbiamo fare Dobbiamo fare 4 punti Nelle prossime 5 partite E considerando Che Ne abbiamo fatti In 4 Ah, 4 le abbiamo fatte Nelle altre 5 Boh Toricamente Con questo ritmo È fattibile Ma Insomma È stato un po' Mezzo miracolo Cioè La particella La scorsa puntata È stata qualcosa Di Veramente Epico Cioè Non Non saprei Come descrivere In un'altra maniera Cioè Comunque Io intanto Potrei fare Una cosa Tipo Questa Così Poli Devo Tenerlo Con Gagliardini Non lo so E non lo so Perché Sono indeciso Perché Ci sono affezionato A Poli Capite C'è Vabbè Vabbè Poi Avrà modo Di rifarsi Avrà modo Di giocare Nella squadra E la squadra Quella Delle riserve Proviamo Gagliardini Dai Proviamo Online Gagliardini Ok Andiamo Almeno Ci riproviamo Un po' Un attimo La situazione Per che altro Ho fatto un picco Tentativo Poi E' andato Un po' HK Più che altro Perché E' Boh Si è imparato Un po' Tutto Con Innessione Cos'è Oh Che bello Forse Andiamo Questo Jolly Jo Va bene Mi sta bene Basta che non si confondano Ok Noi Con la Con la L'esordio Di Gagliardini Squadra Vediamo come va C'è Vabbè Dico Mamma mia Io la vedo Fruttissima La vedo Pare La vedo Caustica Proprio qua Mamma mia Proviamoci lo stesso Noi possiamo Farci molto Ok Bravo Gaston Ripartiamo Minchia Alla faccia Al papu Oh La 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 Meno male No cosa fai piccini Cosa Ciao eh Meno male Meno male Già Cominciamo Veramente Malissimo Bravo Periscia E adesso Possiamo andare via Grazie Vieni Bella Fai l'exalt Eeeh Vieni Non la vedo bene Non la vedo Fatto bene Bravo Colibali Manda via Di là Romagnoli Di là Perché dobbiamo regalare i calci d'angolo Mandala all'altro lato Oh Ecco Così Almeno Lontaniamo All'altro giusto Puttana C'è la ventola No Vai Ma no però E dai E dai Non possiamo regalare così però Io ho provato per rinviare mi fanno ste cose Vabbè Vabbè E vabbè E vabbè Purtroppo così è Purtroppo così è andata Eeeh Vai L'exalt Oh tezio Peccato Peccato Dai angolo Oh proviamo a crederci Proviamo a crederci Batte l'exalt Oh Non ci credo In due hanno lisciato In due Vai Vai Calion Vai Calion Vai il callo Eeeh Sarebbe fallo però questo è Vabbè Eeeh C'è Proprio brutta Di brutta spallata Proprio Dai Che brutto tuffo Dai E' giallo addirittura Vabbè Vabbè Come l'è L'ha preso L'ha preso wifi L'ha preso wifi A un certo punto Vabbè Eeeh Oh capita Berisha 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 Porca miseria Ce l'hai sulle mani Ce l'hai sulle mani Berisha Ce l'hai sulle mani Vai Vai Vecino Verissimo Verissimo Vai Laxalt Bella Laxxi Bella Laxalt Vai No beh Non ci credo Vai Provo a far partire il tiro Juan Jesus Sveglia Non è fuori gioco Cioè è partito Cosa No vabbè Rai Dai Ma dove sta Scritto sto rigore Eh vabbè Oh Niente Niente da fare Purtroppo 2 a 0 E vabbè ragazzi E vabbè E vabbè Purtroppo Nessun nervosismo Le gambe non gli sono tremate Pazienza E proviamo a giocarcela Come possiamo Ragazzi Proviamo a giocarcela Come possiamo Me lo Eh Me ne immaginavo Queste difficoltà Me ne immaginavo Queste difficoltà Pazienza Eh Qua poi mi sbagliano Tutti i passi Niente Eh Sono aggiornata Da dimenticare Questa Purtroppo Sì Vabbè Piccini Piccini Prendi L'Axal Eh No Si ferma Ah Vabbè Oh Oh Bene Manda via Vai cazzola Miniz Eh Due anni fa Ottima La verticalizzazione Perchè 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 Eh Pazienza Arriva l'intervento Dell'arbitro Ma addirittura Giallo Vabbè Eh Oh Quando Quando gira Tutto male Purtroppo Non è che puoi farci Molto Poi Poi L'Axal Poi L'Axal E tira Niente Non tira Che successo Perchè Questo giallo Ma Ma Che Cazzo Di questi cartellini Quanti Vabbè Ok Va bene E Va bene Giornata gialla Giornata gialla Questa Partita gialla Tutto Qualsiasi cosa Faccio E cartellino giallo Eh Anche se non faccio niente Comunque giallo C'è poco da fare Vabbè Vabbè E E Credi Quanti cartellini Quanti cartellini Gialli Assurdi Quanti cartellini Gialli Assurdi Non riesco a capire Non No Non riesco a capire Cosa Succede a sto gioco Perchè per esempio Non fischia Forigioco Perchè non ha fischiato Quel fuorigioco Per esempio Vabbè E Vabbè Niente Quando gira tutto male C'è poco da fare Quando gira tutto male Non ci puoi fare molto Purtroppo Vabbè E Pure l'autogol Tra l'altro Di Emerson C'è niente E vabbè ragazzi Purtroppo Vai Vai Kalinic Che mi hanno Tra l'altro avete visto E mi hanno buttato Uno lì a terra Nessuno ha detto niente Emerson Crossa Vai E Dai Kalinic Crossi Due anni fa Però Niente Purtroppo Tempire Vabbè Pazienza Ragazzi Purtroppo Così è Non mi sento Non mi sento neanche Di dare Colpe a lui Perché insomma Lui ha giocato pulito E vabbè Però Ragazzi Dai I passi accanto La palla Non la prende E oh Giochiamo Almeno con l'onore Mettiamoci l'onore Ragazzi Vai Vai Kalinic Vai Kalinic Vai Kalinic Vai di testa Niente Crossa Kalinic Bravo Kalinic Vabbè È un po' di sfortuna Ce l'abbiamo anche Vabbè Ma chi cacchio Si è Kalinic Domani mattina Piccini Cross E a chi Kalleon Boh Prova a stopparle Volante Di Di Fondoschiena Qua Icardi Per Icardi Il fuorigioco Non vale Fice a partita 3-0 Pazienza E vabbè Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato È andata Come è andata Gagliardini Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Per niente Gagliardini Io mi sa che Rimetterò Poli E Gagliardini Lo lascio E Gagliardini Lo lascio Dove era prima Ok Io direi a questo punto Giocatore Ho giocato una partita Allora Giocatore Esperto Cosa mi dai Un pacchetto Contratti Argento Io ringrazio Io ringrazio E vado avanti Ok Vabbè Abbiamo Contratti Argento Vabbè Comunque Tornando a noi Tornando a noi Andiamo Andiamo Giocatore singolo Ti off screen Diciamo A telecamere Spente Ecco Ma da qualche soddisfazione Vediamo Se sarà in grado Di darcene Anche Online E C'è In senso Con voi A guardare Abbiamo Inserito Abbiamo visto Loco fa Skorupski A posto Di Vania Anche se Poi Ho Una mezza idea Di cambiare Qualche cosa Ce l'avrei Ma Vedremo Questa è una cosa Che vedremo In seguito Ma direi anche Forse no No Teniamo così Va bene Ok Allora Abbiamo Questa partita Contrata Squadra Che dovrebbe essere Ampiamente Abbordabile Sì Direi che A occhio e croce Lo è Vediamo O meno Sembra esserlo Vediamo se lo sarà Davvero Vediamo un po' Non sono in grande forma Lo devo ammettere Proprio la 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 partita La Puntata La scorsa Diciamo la scorsa puntata E' stata una puntata Incredibile Questa Porta lo sarà Un po' meno Posizione Gli attaccati Oh la 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 Ah vabbè Right field Va bene Cioè Abbiamo rischiato Un pochetto Ma va bene Così Vai Giacco Sarebbe stato un bel cross Ci fosse stato qualcuno A seguire Ma va bene Vai Castro Bertolacci La padula Ciao La padula Ora Giaccherini Andiamo per Antonelli Giaccherini Dai Otto La padula dai 1-0 Grande partenza Hanno scelto di attaccare Eh dai la padula Iniziamola bene Dai Iniziamola bene Prendiamoci Queste belle soddisfazioni Iniziamola bene Non poteva sbagliare Hanno aperto le barcature Con questo gol 1-0 Dai Dai che ci siamo Delf Ora Ancora Ancora In Telf Proctor Che cos'è Proctor Che giocatore Bellissimo No E vabbè Vabbè Comunque Ok Vai Interisciti Bravo Vai E che Va Tira Tu Niente Mamma Messo Ma Non Per cosa Gonzalo No Io voglio un terzo Ho bisogno di terzini Destri Campionato italiano Ne ho bisogno Ne ho tanto bisogno Ah Prendilo No 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 Bravo Tonelli Cosa Cosa Che hai fatto Cos'è sta cosa Poli Dai Andiamo Castro Giù Bravissimo La Padula Leggiorini Per La Per Giaccherini In qualche maniera Mamma mia Giaccherini Poi ti sorprendi Che Sarri Non ti fa giocare mai C'è motivo Porca miseria C'è un motivo Poi tutti Gli danno addosso A Sarri Perché Non fa il turnover Eh Certo Turnover Perché non fa il turnover Guardate la partita con l'Atalanta Come hanno giocato le riserve Poi Venitegli ancora a dire Che non fa Che il problema Di Sarri È il turnover Il problema è che A parte quei titolari Che c'ha Non è che C'ha molto altro Ecco C'ha i titolari E basta Più o meno Ancora Perché se gli prendi Il giocato Gli ne prende Tanti Ma non C'è Del livello Che serve Ecco Comunque Poli Bene Ciaccherini Va Braga che si è inserito Luca Antonelli Vai Antonelli Crossa L'Antonelli Sporle Gli hanno mandato via Sporle Dai Che è Che ha detto Vabbè Segna Gonzalo Rodriguez Gonzalo Rodriguez Segna Ragazzi Mamma mia Gonzalo Rodriguez C'è Incredibile Cross Colpo di testa Venuto male La palla Se la Proprio Centralissima Proprio Piatta Che era Là davanti La porta Proprio Perfetto Perfetta Nell'angolo Vai Bertolacci Maggiorini Vai Castro Di dalla Maggiorini Vai Maggio Ole 3-0 E adesso E adesso La partita Più calma Più tranquilla Comunque La partita Almeno questa Abbastanza Tranquilla 3-0 Primo tempo Con la seria Possibilità Di farne altri Se non faccio Ste cavolate Ovviamente Vai Ritagliala Eh Giaccherini Madonna Io Vai Bomb Ole C'è un problema C'è un serissimo Problema Sulla fascia Sinistra Perché Giaccherini Insomma Non è Massimo Nella vita Ma Già Già Ci sono problemi In la formazione Titolare Figuriamoci Figuriamoci Fra le riserve Per fortuna Questa partita Era abbastanza Come posso dire Tranquilla Come Avversario E tutto quanto La padula Bertolacci O Signore Mai una volta No Che aspetto Non è lì Ancora Aspetti Che Niente Niente Adamov Mi leva Palla Adamov Bella Cross La padula Niente Niente Da fare E sta Castro Niente No E giornate Esce tutto male Per fortuna Che gli avversari Gli avversari In questa partita Sono quello che sono Perché purtroppo Ne è quello che è La giornata È quello che è La padula La padula Oddio Un movimento sensato La padula No L'unico Giusto Giusto Che si è fatto Cogliere in fuorigioco Giaccherini Vabbè Vabbè Non sei una roba Giaccherini Nella realtà Non sei così Però Perché a FIFA Sei così Vai Poli Poli Fai tu qualcosa Meggiorini Bertolacci La padula Gonzalo Attenzione a Gonzalo Cross Ma che Mamma mia Leggermente Fuori visura Va bene Ha un concetto Di leggermente Che è Particolare Caropardo Meggiorini Niente Meggiorini Ancora Vai Apertura Di Poli Vai Gonzalo 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 Poi Ok Allora Io direi Così Castro Ma porca miseria Castro Cazzo di Che Castro Di 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 angolo È questo Ringrazio L'arbitro Che qua Ovviamente Rimessa laterale Non c'era O meno Era per loro Non è che non c'era Perché è uscita Ma era per loro Comunque Vabbè Gaggiorini Veli Vai Meggiorini E domani Ma esse domani Ti decidessi Di passarla Quando premo io Niente Wild Phillips Ma porca Ma lo fischiamo Un fallo Niente Ok Vai Maggiorini Vai Vai Giacco Vai Giacco Vai Giacco Vai Oh È Maggiorini La mette Un'azione assurda Perché c'è È assurdo È un passaggio Un passaggio così brutto Con quella lentezza Arrivi tranquillamente A centro dell'aria Al nostro attaccante Cioè guardate Qua Pappete In tre Nessuno sono stati a guardare L'attaccante che arrivava Meggiorini che fa Doppietta Doppietta Alla grande Alla grande Meggiorini Ok Ora però Vai Poli Giaccherini Giaccherini Vabbè Cazzo come se la cava No non te la do Giaccherini Non te lo meriti Eccolo Eccolo il bomberone Meggiorini Che va tripletta Che va di tripletta Oh Meggiorini di testa Mi sei piaciuto Mi sei piaciuto Cross Pappete Oh 5-0 Che bello Che bello Che bello D'ignoranza italiana Giaccherini Giaccherini Brava Giacco Vai Giacco Dai Giacco Fai una cosa utile No C'è E Vabbè I cross Che sai fare Giaccherini Allora Di velocità Di 78 Le gambe Ce le hai di burro Perché Un tassaggio Qua da forte Non lo sai fare Saltare l'uomo Non lo salti Il cross A quanto si è appena visto Non li sai fare Giaccherini Cosa minchia Sai fare Per curiosità Tanto la padula Oh Oh vedi Imparare la padula Questo è quello che devi fare Questo è quello che ti deve fare Un esterno Oh Anche se la padula Non è neanche esterno Poli Poli cerca gloria Poli cerca gloria Ah Dai I la Dai Dai Eh ciao Poli Non ci credo Gol È valido Non ha dato il fuorigioco Alla padula Era sulla linea di porta Come fa a non essere fuorigioco Ma va bene così Tutto nasce di nuovo Da Tiro dal parcheggio Dello stadio di poli Eh No vabbè Io Non so che dire Vai Tiro Deviazione Parata E la padula Che era lì Non era in fuorigioco Va bene così Io Io ringrazio Eh Però Io ringrazio Però mi sembra evidente Che la padula Fosse in fuorigioco Era fermo Era fermo A mezzo metro Dalla linea di porta Eh Va bene Eh Ok Io Vai Vai la padula Vai la padula Niente Non concede nulla all'attaccante No Eh infatti Solo sei gol ci ha concesso Di cui tre proprio alla padula Però va bene Ok Non concede nulla all'attaccante Due alla padula credo No Vai Vai Passala Passala E Castro Bella Se magari la passi Grazie Porca miseria Niente Comunque Vabbè Tanto ormai la partita Lanzana tranquilla Sei a zero Potevo farne di più Però Non sono in grandissima forma È abbastanza evidente Come io non sia proprio In grandissima forma La padula Dove Basovai Bravo Lapa Però Porca miseria I passaggi Negli essercato Non vogliono giocare più Eh Aspettano alla fine Vogliono andare a casa Ehm Venti Vai Poli Meggiorini Niente Non Gli attaccanti hanno Fini Basta Basta Non gli va più Non vogliono giocare Basta Non vogliono più Vabbè Ma le cose meravigliose Le cose Meravigliose Comunque Almeno una soddisfazione Qua Ce la siamo presa Forse Saremo Addirittura Eh Beglia 225 Forse Saremo Addirittura Oh Siamo livello oro Addirittura Livello oro Che cosa è Livello oro 1 Scusate Bene Siamo un'ottima cosa Vedremo in seguito I da farsi Direi che possiamo Lasciarci qui E darci appuntamento Alla prossima Ciao a tutti ragazzi